Oggi siamo qui per parlare dei prebiotici. Che cosa sono? Sono dei carboidrati che non vengono digeriti dall'animale ma vanno a svolgere una specifica funzione a livello del microbiota. Possiamo nominarne alcuni, ad esempio l'ixiloligosaccaridi, fructoligosaccaridi che trovate all'interno di tutti i nostri prodotti. Questi che cosa vanno a favorire? Vanno a favorire una microflora e nello specifico una popolazione batterica benefica a livello del colon che va a sua volta a stimolare l'integrità della mucosa intestinale e il sistema immunitario. Ecco che grazie all'inclusione di prebiotici all'interno delle nostre formulazioni possiamo supportare sia la regolare funzionalità dell'intestino che il sistema immunitario. Grazie a tutti! Grazie a tutti!